ecco qui le pecore al pascolo teniamo il nostro amico pastore che che ci racconta e questo e dico vi danno il sostegno economico ma voi siete della zona dove a cinque vie a cinque vie e che quando latte fanno e più per mangiare gli agnelli quindi venite in queste terre per pascolare un poco e poi quante quante pecore sono 250 pecore quindi bella 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 carnevale come è stato e carnevale facciamo carnevale niente bravo attenzione brava 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 bravo quindi niente ok